svegliati alessandria buongiorno oggi l'11 giugno 2020 ci troviamo qui in via galvani questo è un cartello che un negoziante attaccato in riferimento al furto di pianticelle da questo vaso abbiamo qua professore luigi manzini professore buongiorno dobbiamo anche occuparci di cronaca spicciola e questa è una notizia curiosa e allarmante se vogliamo cioè questo vaso questa piccola fioriera è stata depredata stanotte come viene viene segnalato da questo cartello da questo forno forno pasticceria bar che si chiama madama caterina esatto e probabilmente attirati dalla bellezza dei fiori soprattutto dalla gratuita gratuita a questo punto molta amarezza con moltano così disappunto anche perché le persone fanno di tutto per dare rendere piacevole alcuni luoghi della città come in questo caso questo piccolo spia e spiazzo che si affaccia intorno a questi esercizi commerciali che resistono che resistono di fronte alla crisi in questo quartiere popoloso e bello che è il villaggio europa invece questi sono i risultati ecco guardate guardate se ci riduciamo professore anche a queste a queste bassezze qua diciamo che la ripartenza dopo la quarantena del virus non è molto rincuorante mi auguro che sia il gesto di qualche persona così superficiale perché superficiale una cosa occasionale che però fa male assolutamente fa assolutamente male adesso noi ci fermeremo un attimo prendere un caffè qui da dal forno e vi auguriamo una buona giornata anche se il cielo vedete non promette bene per oggi un cielo piuttosto grigio tipico della nostra zona e ormai dobbiamo abituarci a questa alternanza a questa alternanza di nuvoloso arrivederci a tutti da svegliati alessandria arrivederci a tutti